Sono Cari Scannabanda, ho 25 anni, ho sempre sognato di essere in un palco importante di fronte a un grande pubblico e oggi finalmente sono su un palco importante e già va bene, dai, già ce la mettiamo. Ho 25 anni e sono cittadino del mondo ma ancorato le mie radici, nel senso che io coi miei, sono bello ancorato, bello giuduro, non mi disangolo manco quel canto, vai fuori di casa, vai fuori tu, bastardo. Mi chiamo Cari Scannabanda e leggo molto bene la tensione. Ehi, Ariston, dove sta? E tutto molto lucido arrivato, mi metto un fatto disagio, un fatto di... Ok, Scannabanda e ho 25 anni e mi vedo tra 5 anni. Beh, come un artista più grande? Quanto più grande? Eh, meno di 5 anni, cazzo, perché se no non torno nei conti. Sono qui per esibire il mio talento, diventare famoso e andare finalmente sull'isola dei famosi di... Oh, 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 oh! Quanto è buono, quante è buono, quante è buono! Eh! Eh, 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 eh! Questo sembra altro? Ehi! E' la mia dimissione. Volevo dimostrare tutto il mio talento. Mio talento in cosa? E' la mia dimissione. E' la mia dimissione. E' una mia canzone in edita. E' una canzone che nessuno ha sentito. e sono ancora voluto sentire, io sei 7 anni che hai detto, vuoi sentire o no? Se metti la base io parto con la canzone, aspetta che faccio prima un po' di esercizi per scaldare, vado e scala, non posso, ora provo delle canzoni per fare, 1, 2, 3, e 3, 2, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, like, dott. Tu, tu, vedi? Ah. Di che cosa fai un solo? Ok, questo è tutto. Adesso! È tutto. Già, adesso!